...di nuovi o comunque continua con il discorso del turno di tutte le volte rispetto alla Fiorentina per campionare a Coppe di continuare un po' a smistare, insomma, a mischiare No, aveva fatto vedere le qualità per cui le avevamo scelte naturalmente qualcuno è un po' più indietro, qualcuno è un po' più avanti qualcuno conosce meglio il nostro campionato, qualcuno altro un po' meno però, insomma, al di là di questo io cerco di sapere tra il campo la squadra più liberata possibile e che quindi ha sulla carta almeno più rispetto alle idee naturalmente più servita di poter vencerla da qui